L'autonomia per noi è un bene prezioso, importante, ma è anche un valore di identità che ci contraddistingue e ci ha sempre sostanzialmente posto in una posizione molto particolare all'interno del panorama nazionale. E' chiaro che i tempi cambiano e quindi anche le impostazioni vanno aggiornate e vanno equiparate a quelli che sono i cambiamenti e i mutamenti. Quindi senza entrare poi nello specifico dei contenuti che sono molto complessi e articolati, credo di poter dare pieno sostegno a questo percorso di innovazione e rinnovamento pur mantenendo quelli che sono i principi cardine che hanno fatto nascere e che ci hanno caratterizzato per questo aspetto. Grazie